La fiera, la distribuzione del pane benedetto, il ricordo delle 180 vittime del bombardamento del 17 gennaio 1944. Dopo lo stop causato dalla pandemia, Chiaravalle è tornata a celebrare Sant'Antonio Abate, un santo a cui la cittadina è particolarmente devota, tanto da ritenerlo copatrono insieme a quell'ufficiale San Bernardo. Sant'Antonio è amato da tutte le nostre terre, ma qui a Chiaravalle sappiamo che coincide anche con un anniversario molto doloroso, ricco di memoria, quindi si unisce da un lato la tradizione contadina, di questo santo vicino alla gente, vicino alla campagna, agli animali. Questo territorio è un territorio agricolo, anche se poi è diventato anche fatturiero e molto operativo, e si unisce però anche alla memoria di questo momento, di questo dramma doloroso. Una festa legata alla tradizione agricola e rurale del territorio, che richiama visitatori dai paesi vicini, ma che non manca di registrare il ritorno dei chiaravallesi andati a vivere in altre città e che vogliono comunque celebrare questa ricorrenza. Sono nata a Chiaravalle, quindi ritorno volentieri tutti gli anni. Da dove? Da Sarnano, sono finita a Sarnano, da Chiaravalle a Sarnano. Quest'anno la festa ha visto il ritorno della fiera, che nonostante il tempo ha registrato una buona affluenza. Siete affezionati a questa festa? Sì, molto, 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 anche perché io amo molto le tradizioni. Tra un giro per bancarelle e la fila per prendere il pane benedetto, distribuito insieme ai maritozzi e alle ciambelle, la festa si è confermata appuntamento irrinunciabile. Anche con la pioggia e l'ombrello. Pane e ciambelle, tutti gli anni, se non bi tuoi. La tradizione. La tradizione. Se non c'è, manca proprio. Noi abbiamo ordinato meno pane, perché il tempo era così, meno pane, ma come vede, è mezzogiorno, già è quasi finito tutto. Oltre al desiderio di festeggiare Sant'Antonio Abate, la giornata è anche l'occasione per ricordare i 180 cittadini inermi che persero la vita nel bombardamento, di cui la città serva ancora un ricordo commosso e vivido. I vecchi passavano sopra di noi, veniva giù, era il sole, le bombe che luccicavano e poi il gran polverone. Grazie. Grazie. Grazie.